Quando il mondo sprofondano il caos, quando anche i tuoi insegnanti e i tuoi amici cercano di divorarti, armati di coraggio, ma anche di tutto quello che riesci a trovare, e sopravvivi. Sopravvivi a tutti i costi. Arriva per la prima volta in tv e in versione originale, il survival horror più sexy dell'animazione giapponese. High School of the Dead. Ogni lunedì e mercoledì alle 22.45, solo su Mangani. Grazie a tutti.